Ciao ragazzi, oggi installiamo finalmente il supporto Garmin di cui forse vi ho già parlato in altri video, sono sicuro che avrebbero parlato in questo video che trovate qui, il supporto Garmin in versione definitiva. Sono ormai mesi che sto testando questo supporto in varie versioni e adesso finalmente mi è arrivata la versione, quella definitiva, che sarà in vendita su BikeOnline e trovate il link in descrizione e ritengo veramente che sia una cosa fenomenale, veramente fenomenale, ma andiamo tutto a vedere cosa si fa. Eccolo qui, questo è il piccolissimo supporto per l'orologio Garmin 4Runner 945 per agganciarlo in modo veloce alla bicicletta. E' una cosa che io ritengo veramente, come vi ho detto, veramente eccezionale. Il peso è assolutamente irrisorge, stiamo parlando di 5 grammi e la mia bilancia ha una tolleranza di più o meno 1 grammo, quindi probabilmente è anche più leggero. Questa è la versione FR22 che starebbe per 4Runner 22 mm, ovvero la larghezza del cinturino, 22 mm, e ha la possibilità di essere montato. Ci sono i due vasi qui, quindi uno orizzontale e uno verticale, perché in questo modo il supporto è possibile montarlo sia sulla pipa del manubrio che sul manubrio stesso. Adesso vediamo come si fa. Ci sono i buchi per le fascette, sia da una parte che dall'altra, per fissarlo, ripeto, al manubrio o alla pipa. Adesso vediamo come funziona. Allora, come vi dicevo, il supporto può essere montato sia sul manubrio della bicicletta, e poi fissato chiaramente con le due fascette e sulla pipa, posizione che io preferisco di gran lunga, perché rimane centrale e mi lascia comunque liberi anche le due parti del manubrio dove posso magari attaccare appunto il supporto per la Gopro e poi si fa altra cosa. Scritta MRG e la marca sta per Micro Racing Ghia. Adesso andiamo a mettere le fascette e a fissarle. Ok, come potete vedere, l'operazione di fissaggio è semplicissima. Si inchirano le due fascette nei buchi. Dopodiché io lascio la levetta per lo sgancio, io preferisco lasciarla dalla parte, diciamo, verso di me, e decidi della posizione, come dovrebbe essere questa. Io preferisco mettermi nella posizione più avanzata possibile. Io preferisco mettermi nella posizione più avanzata possibile. Io preferisco mettermi nella posizione più avanzata possibile. per sicurezza, io tiro con la pinza. Io preferisco mettermi nella posizione più avanzata possibile. l'installazione più avanzata possibile. l'installazione più avanzata possibile. Eccolo qua, installato, le due fascette. Il sistema di sgancio è molto semplice, basta premere qui. e l'orologio si sgancia, adesso vediamo come si fa. per montare sul supporto l'orologio è semplicissimo, basta prendere l'orologio, e togliere il cinturidolo, ovviamente con lo sgancio rapido è un'operazione immediata, è semplicissima. Dopodiché andare a incastrarlo nella parte anteriore, e di conseguenza nella parte anteriore. a questo punto, come potete vedere, sto alzando la bicicletta addirittura, quindi non si sgancia. e direi che ci siamo. Per sganciarlo, molto semplicemente, lo faccio lì. aggancio. e sgancio. E' importantissimo quando si aggancia, fargli fare anche questo click. In questo modo, davvero, non c'è modo che si sganci. e voilà. Io ritengo veramente che questo sia il miglior aggancio per gli orologi Garmin alla bicicletta. Vi ringrazio per aver visto anche questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Alla prossima. Ciao. Ciao.